Dopo il via libera ufficiale da parte della direzione provinciale del Partito Democratico, e l'ok di sinistra civica ecologista, Franco Miceli incassa anche un sostanziale semaforo verde da parte del Movimento 5 Stelle. Accolta anche dai pentastellati la candidatura a sindaco di Palermo, con il presidente dell'Ordine Nazionale degli Architetti che ha incontrato a Roma leader dell'M5 San Giuseppe Conte. Tra i due un colloquio che viene definito «proficuo» da ambienti pentastellati. Conte, quindi, ha deciso di mettere mano al dossier Palermo. L'incontro con Miceli è servito per una reciproca conoscenza con colui che, a questo punto, sembra avere le maggiori chance di ricevere la palma di candidato definitivo dal tavolo progressista formato da pentastellati, dem, sinistra e forze civiche. Tra i tanti si ricevuti, oggi per Miceli anche una voce contraria, quella del Giovani Democratici, una scelta fatta da chi guida il partito da venti anni nel chiuso di una stanza, lamentano i giovani del PD. Nel pomeriggio il documento approvato dalla direzione provinciale del PD, ma non all'unanimità, incorona il presidente dell'Ordine degli Architetti come «la candidatura autorevole che serve alla città di Palermo», con buona pace del fronte orlandiano che ostacola la soluzione Miceli e di altre frange poco felici della scelta maturata proprio in casa Dem. Grazie